Benvenuti a questo speciale della testata giornalistica sportiva. Avevamo detto già ieri sera durante Domenica Sport che avremmo presentato il calendario del prossimo anno, quindi calendario 2021 in diretta televisiva per due motivi. Primo perché lo abbiamo sempre presentato al Coriolis, ma in base alla nuova normativa anti-Covid non è stato possibile farlo. La seconda circostanza è che ci teniamo comunque a mantenere questa tradizione, l'undicesimo anno che proponiamo il nostro calendario, quindi evidentemente lo abbiamo fatto insieme a tutti quanti voi amici di Telemolisse e insieme ad alcuni amici, qualcuno ci ha raggiunto qui in studio, sempre secondo le normative, altri li contatteremo via Skype. Insieme a me c'è Erika Mastropietro. Buonasera Erika, che negli appuntamenti importanti non manchi. Mai, mai. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori a casa. È un piacere essere qui in questa forma anomala che abbiamo dovuto adottare per presentare il nostro calendario 2021, perché purtroppo le restrizioni sono quelle che sono, però l'importante è esserci e noi ci siamo, nel segno della continuità. E noi ci siamo, ci siamo sempre stati in realtà, perché dall'11 marzo, gli amici lo sanno, siamo stati sempre qui anche con Domenica Sport, a parte i telegiornali tutti i giorni, che veramente certi giorni, diciamocelo francamente, non sapevamo più che cosa pensare, che cosa immaginarci. Saluto Daniela Ziccardi, che proprio inizia insieme a noi il programma, la possiamo inquadrare. Buonasera a te, Daniela. Buonasera e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Poi ci sarà Eleonora D'Aversa nell'area social. Presento gli ospiti che ci hanno raggiunto qui, due ne possiamo ospitare e due ospiti ci sono. L'avvocato Romeo Trotta, nostro grande amico, noto professionista del foro di Campobasso e quant'altro, insomma, perché, insomma, di Roma, eccetera. Anche Presidente Aiaf, ma soprattutto un amico, uno sportivo. Certamente, Antonio. Buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Non c'è stato bisogno di dirtelo più di mezza volta. Ma tu sai che tra me e te c'è un'amicizia ormai consolidata negli anni e per me è un piacere, un onore partecipare alle tue trasmissioni televisive. Ecco, poi ci sei sempre stato, mi parlo a calendario, e quindi ci sei anche quest'anno. Ma devo dire, nemmeno Giuseppe Formato, direttore di CB Live, buonasera a te Giuseppe. Buonasera. Anche lui sempre presente, sempre quando evidentemente lo coinvolgiamo, nemmeno lui si è fatto pregare, così come non si sono fatti pregare alcuni personaggi che ora interverranno, d'ora in avanti, interverranno via Skype. Non è potuto essere qui in diretta con noi, Quintino Pallante, perché si trova a Roma, e lo raggiungo telefonicamente. Buonasera Quintino. Sì, buonasera Antonio, buonasera agli ospiti studio e anche agli spettatori che ci seguono anche questa sera da casa. Spero ci stia seguendo tu da Roma. Sicuramente sì, vi seguo da Roma, come sapete delle molise a Roma è visibile sul canale 880 delle città e le terrestre già da molti anni, quindi Roma oramai in qualche modo è coperta da delle molise e i molisani possono seguirla in qualsiasi momento. Allora, l'undicesimo anno che praticamente la testata giornalistica sportiva propone il calendario, è diventata anche questa una tradizione? Sì, oramai è proprio il caso di dire che è diventata una tradizione e al contrario di molte tradizioni che purtroppo durante il Covid hanno dovuto in qualche modo subire una battuta d'arresto, invece noi in qualche modo, come dire, in una forma un po' più tecnologica siamo riusciti. Non lo sentiamo più, ne approfitto, vado un attimo a Termoli dove saluto, insomma ha voluto anche essere stasera con noi anche lui, Pino Somma, in attesa di ripristinare un attimo il collegamento con Quintino Pallante. Buonasera Pino. Direttore, buonasera, grazie per l'invito, perché è arrivato anche a me l'invito a partecipare a questa splendida trasmissione. Voglio dire, 11 anni, sono tanti, veramente tanti, l'ennesimo sforzo giornalistico, editoriale, soprattutto per Tele Molise, per la testata di Tele Molise. Un complimento enorme, soprattutto perché con questo ennesimo anno continuiamo ad entrare sempre di più nelle case, negli uffici soprattutto. Anch'io nel mio ufficio ho affisso alla parete il calendario di Tele Molise, ormai ci metteremo anche quello di quest'anno, quindi l'undicesimo anno. Con me c'è anche Marco Somma, c'è Medeo Nardem, insomma lo studio di Termoli più che mai presente anche a questa serata. Va bene, saluto anche Marco, ciao Marco. E quindi ritorno da Quintino Pallante. Quintino. Sì, eccoci. Stavi dicendo? Sì, sì, stavo dicendo che è una tradizione oramai che dura da 11 anni, che a differenza di molte altre tradizioni che purtroppo il nostro Molise ha dovuto in qualche modo non vedere più perché c'è questo blocco dovuto a Covid, ma in qualche modo noi siamo andati avanti con questa forma un po' tecnologica di presentazione che ci permette di intervenire da remoto, in questo caso io telefonicamente, molti altri via Skype e anche con qualche ospite in studio sempre nella norma Covid in sostanza. Va bene, non abbiamo smesso un giorno, no? All'inizio tu mi hai chiesto, dici ma che cosa vogliamo fare? Non si gioca. E che dobbiamo fare? Ho detto non mi posso mica stare a casa, no? Perché se no, insomma si preoccupa una marea di gente se resta a casa la domenica. Sì, devo dire che quest'anno è stato un anno forse l'unico in tanti anni dove abbiamo dovuto veramente reinventare la televisione, cercando di intrattenere comunque tutti i telespettatori che erano abituati a vederci tutte le domeniche e devo dire che ci siamo riusciti ampiamente perché gli ascolti ci hanno dato ragione, i dati sono veramente elevati, quindi c'è stato veramente un impegno da parte di tutta la struttura che è stato enorme ed è stato molto apprezzato. Va bene Quintino, grazie per questo intervento, continuaci a seguire. Sicuramente sì, vi seguo con molto piacere anche qui da Roma. Se commettiamo qualche errore chiamaci immediatamente che ti facciamo naturalmente intervenire, ci mancherebbe altro. Sicuramente, sicuramente, sono qui. Ciao Quintino, buone feste. Un abbraccio a tutti e buone feste a tutti quanti, anche telespettatori. Va bene, Daniela allora tu l'hai fatto tu praticamente, no? L'hai pensato tu questo calendario insieme a Gianfranco Calapi che poi ha curato la parte grafica. La parte grafica, sì. Quindi ti sei data un tema? Assolutamente sì. Infatti, per questa serata ho pensato, diciamo, alla presentazione. Vorrei fare una distinzione tra il tema del calendario e il senso del calendario. Il tema quest'anno sarà quello di ripercorrere per i 12 mesi del 2021 alcune delle manifestazioni sportive che caratterizzano lo sport molisano, molte delle quali comunque non ci sono neanche state in questo 2020 e sappiamo già il perché. Il senso però del calendario è tutt'altro. Il senso del calendario è la passione. La passione che ci ha messo la redazione sportiva di Telemolise in questi 34 anni da quando c'è il direttore alla guida della testata giornalistica sportiva nel raccontare il Molise sportivo. La passione che ci hanno messo i ragazzi della redazione sportiva in particolare, cioè quelli tecnici e la parte giornalistica, nonostante non si facesse tanto di sport. Diciamo noi siamo andati avanti e non abbiamo annullato assolutamente nessuna trasmissione. Telemolise nel cuore ad esempio è stata, diciamo così, solamente posticipata. Rappresenta questo calendario la passione delle società sportive che hanno interrotto la vecchia stagione, hanno iniziato quella nuova, qualcuno sta andando avanti, altri invece si sono fermati. Quindi questo calendario vuole essere, diciamo così, di buon augurio anche per noi del settore e per i dirigenti, i calciatori che ogni tesserati, anzi non calciatori, i tesserati che scendono ogni domenica, ogni weekend, ogni settimana, insomma, sia in campo che nelle palestre e quant'altro, organizzano manifestazioni che danno lustro poi alla fine al Molise, a continuare a riproporsi in questo 2021. Si è fermato lo sport, si sono fermate anche le manifestazioni di carattere culturale, infatti il retro copertina quest'anno è dedicato ad alcune manifestazioni clou che si organizzano in Molise, sono poche purtroppo perché ne sono tantissime, ne cito solo qualcuna, i misteri, la festa di San Basso, la festa dell'Uva, Bagnoli del Trigno con frammenti d'antico, insomma, abbiamo cercato di dare visibilità al Molise che sia in parte, diciamo così, fermato in questo 2020 e che speriamo possa ripartire il nuovo anno. Tutto questo è stato possibile, comunque farlo grazie ad AGR Point e a Gianfranco Galati in particolare, infatti voglio semplicemente dire solo questa cosa, l'anno scorso quando Gianfranco ci ha consegnato il calendario 2020, già mi parlava del calendario 2021 e quest'anno infatti abbiamo messo in pratica le idee che aveva anche lui apportato nel 2020, quindi questo è il calendario di Telemolise, un ringraziamento a tutti i ragazzi della redazione sportiva, a Telemolise, alle società che credono in Telemolise e dai telespettatori. Questo rappresenta. E dice che non voleva parlare. Basta poco. Ha detto non voglio parlare. Tra poco penso che mi... Eh? A te già da spodestato ormai non ho detto. No, ormai lo scettro è stato ampiamente passato alla degna degnissima. Però devo dire... Adesso si sta provando anche con me. No, impossibile. Mai. Impossibile. Accolto nel segno perché io l'ho visto il calendario e il primo pensiero, il mio primo pensiero che di chi arriva alla presentazione del calendario è al buio, perché anche nelle altre edizioni io non lo conoscevo il calendario. E l'ho guardato e ho detto è bello. È vero che è monco di quello che noi andavamo a inserire nel calendario che caratterizzava Telemolise nel cuore o piuttosto i grandissimi eventi che ogni anno caratterizzavano lo sport della nostra regione. Però è bello proprio per il senso che tutta la redazione sportiva ha attribuito a questo undicesimo calendario, e cioè la passione. Va bene, allora la concediamo, altrimenti se siete al mio posto, Daniela Zicciardi. C'è del posto all'area social Ateleonora D'Aversa, un'altra ragazza che durante il lockdown pure ha partecipato veramente attivamente. Adesso cito solo lei per non citare tutti, perché non vorrei dimenticare qualcuno, tutti i ragazzi della redazione sportiva. E quindi anche stasera lei è qui. Va bene, allora seguici come fai dalla regia. La ringraziamo, Daniela Ziccardi, se è questo calendario, perché poi lo puoi fare anche vedere ogni tanto. Sì, assolutamente. Però in sostanza è merito. Intanto voglio dire il simbolo, no? Grande merito su. Il simbolo di copertina che è questo microfono. Questo microfono che in realtà non si è spento neanche quando è stato difficile poter scegliere gli argomenti da andare a raccontare quotidianamente ai nostri telespettatori. Quando ci volevano spegnere. Allora, per dire meglio. Allora, c'è anche Benedetta Fazio in regia, così come ci sono, dunque, c'è anche Luigi, Federico, insomma, Daniele Genovese, ci sono i tecnici, Angelo Pompei, Donato Mignogna, dunque, credo, Gianfrancesco Iagaruso alla messa in onda. Però, insomma, dovremmo avere anche il... No, volevo chiedere. Intanto, Benedetta, il primo collegamento Skype, venimi sempre ad avvisare se ce l'abbiamo. Romeo, il senso, eh? Il senso che diceva Daniela. Ma Daniela ha colto veramente nel segno, perché questa televisione è stata, secondo me, eccezionale. Cioè, è riuscita a catturare l'attenzione dei telespettatori anche in un periodo difficile. Difficile per tanti motivi, da un punto di vista sociale, sanitario, economico. È finito un po' tutto. La nostra vita precedente, completamente, ti dico, i ragazzi che non andavano a scuola, i ragazzi che non potevano frequentare l'università, la frequentavano da remoto. I campionati sono sport. Lo sport che non esiste, lo sport che poi, andò questo, lasciamelo dire, lo sport, secondo me, lo sport importante, la Serie A, la Champions, è lo sport, il punto di arrivo. Però lo sport bello, è quello amatoriale, quello che si fa nei campi di calcetto il mercoledì sera, quello che si fa nei campi di periferia, quello che si fa nei campi di paesi, che ti posso dire, a Colletorto, a Mirabello. Questo è lo sport. Lo sci, ma non la Coppa del Mondo, lo sci che andavamo a fare tutti la domenica. Certo, la domenica. È finito tutto. E quindi, da un momento all'altro, ci siamo ritrovati in un incubo, con la paura di contrarre il virus, con la paura del futuro, con difficoltà economiche di ogni tipo. E devo dire che, in questo periodo nero, trasmissioni come Telemonise, secondo me, hanno svolto un ruolo sociale fondamentale, perché hanno non solo catturato l'attenzione dei telespettatori, ma hanno saputo anche dare dei messaggi positivi, e questa è la cosa più importante. Io credo che questo calendario sia un messaggio positivo per il futuro. Certamente. Abbiamo via Skype Amelia Mascioli, presidente dell'M2, che saluto. Buonasera, Amelia. Buonasera. Mi sentite? Certamente. Allora, buonasera a te. C'è anche l'M2 su questo calendario, quindi, insomma, invece di ospitarti nelle sale del Coriolis, sei collegata via Skype per darci anche un tuo contributo a livello di pensiero. Grazie, Antonio. Intanto grazie per aver pensato anche a noi in questo calendario. In realtà, il 2020 è stato un anno nefasto per tanti motivi, vabbè, senza che li ripercorriamo in questo momento, però in realtà per M2 è stato anche un anno molto molto produttivo. La vittoria di Andrea, come sai, nel suo 200 stile, e anche, insomma, la mia nomina nel Consiglio federale, per cui, diciamo che nonostante l'avversità, abbiamo portato a casa bellissime soddisfazioni. E il pensiero che hai avuto di riservarci uno spasso nel tuo calendario davvero ci fa onore, perché, come dire, lasciamo traccia di una nota positiva in un anno che forse così positivo non lo è stato. Certamente. Sono chiuse le palestre, le piscine. Io sono venuto insieme a te e agli altri rappresentanti in piazza davanti alla Prefettura a esprimere il disappunto insieme a voi del settore. Adesso speriamo tutti quanti che il 16 gennaio veramente si riaprano, perché veramente non se ne può più. Antonio, noi lo speriamo, anche se ad oggi purtroppo non abbiamo buone nuove, nel senso che sembra che, al di là di qualche articolo che era uscito da parte del nostro ministro dello sport, adesso di nuovo tutto tace, come se in realtà lo sport fosse ancora una parentesi opzionale, non il primo valore che tutti quanti dovremmo perseguire, perché non ci dimentichiamo che lo sport è sicuramente divertimento, stare insieme e tante altre belle cose, ma è soprattutto prevenzione, per cui dovrebbe avere la stessa rilevanza di quella che è riservata appunto al discorso sanitario. È chiaro che la prevenzione paga a lungo termine, non paga nell'immediato, però potrebbe essere davvero un valore aggiunto. Ecco, forse l'augurio che dovremmo farci per questo Natale è che davvero lo sport venga considerato come imprescindibile e rinunciabile da parte di tutti. Bisognerebbe fare un bel po' di cultura, perché guarda, noi abbiamo un sistema anche di istruzione molto pregnante, forse nei migliori nel mondo, ci insegnano di tutto, di più, ci dicono quello che dobbiamo studiare, ci dicono quello che dobbiamo fare, cosa dobbiamo diventare, però non ci dicono cosa fare per custodire tutto questo, che è la cosa più importante, cosa fare per mantenersi in salute, perché se la salute non c'è si può essere il professionista più bravo del mondo, però di fatto manca il tassello più importante. Ecco, forse questo è l'augurio, che ci sia più senso di responsabilità intorno proprio alla funzione che noi operatori del mondo dello sport promuoviamo sul territorio, ma proprio nella collettività, e che questo diventi un valore posto proprio alla base di un sistema culturale, da cui puoi costruire tutto il resto. Va bene, Amelia, complimenti anche per la scenografia, questa è casa tua. L'albero di capare è fantastico. L'albero perché sapevo che mi avresti riservato una battuta e in realtà siccome siamo in tema è bello, è bello, sei stata bravissima. E volevo appunto, come dire, fare un augurio a tema. L'hai fatto tu, L'albero? Mi ho approfittato. L'hai fatto tu o l'hanno fatto le piccole Paoletta e Delia? No, 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 l'albero è mia creazione così come tutti gli addobbi natalizi. Diciamo che le bambine mi aiutano solo a mettere in ordine, a tirare fuori tutto dalle buste. Amelia, eccovi qui, siete nel mese di febbraio. Carica, non t'avamo visto. Ciao. Amelia, grazie. Buon Natale a te. Ecco, vedi, c'è anche Delia. Eccola qui, salutiamo. Ciao, ciao, Delia. Facciamo gli auguri a tutti. Ciao, Delia. Aspetta, ora sta arrivando pure il pezzo di paoletta. Ah, sta arrivando anche Paoletta. Eccola, che meraviglia. Buon Natale a voi. Buon Natale anche a tuo marito. Grazie Antonio, a voi tutti. Grazie di cuore per quello che fate, per il vostro impegno e grazie perché ci date voce in un momento come questo. Buon Natale. Splendida famiglia. Buon Natale. Buon Natale a voi. Buon Natale, un bacio. E pure santo. Saluto Eleonora. Un bacio a tutti. Ciao, buon Natale. Saluto Eleonora D'Aversa al touch screen. Giusto, Eleonora? Buonasera a lei, direttore. Ci ritroviamo anche questa sera. Saluto anche Erika Mastropietro, gli ospiti qui negli studi di Campobasso e Pino Somma e gli altri nella redazione di Termoli. E ovviamente do il benvenuto a tutti i telespettatori che sono sintonizzati con noi anche per questa presentazione del calendario 2021 della TGS. e sono qui all'area social eccezionalmente perché questa sera avrete la possibilità di inviarci i vostri messaggi e noi ovviamente il piacere di riceverli quindi vi invito a scriverci al numero 331 26 5 volte 2 potete farlo su WhatsApp o tramite SMS. Non esitate a farlo e se volete potete anche inviarci delle fotografie perché no in quanto qui dall'area social posso mandarli in onda facilmente. vi ricordo come di consueto che siamo in diretta sul canale 11 qui nella nostra regione sul canale 880 in Lazio compresa Roma ma potete seguirci anche sulla diretta Facebook che ovviamente troverete sulla pagina di Telemolise stesso discorso per il canale YouTube di Telemolise anche in quel caso potrete accedere facilmente alla diretta da qualsiasi dispositivo e infine siamo disponibili anche su Amazon Fire TV fruibile in tutto il mondo attraverso il relativo modem che una volta acquistato va collegato alla vostra Smart TV e vi permette appunto di accedere e di seguire Telemolise ovunque voi vi troviate vi ricordo ancora una volta il numero per interagire con noi che è 331 26 5x2 aspetto i vostri messaggi stai qui con noi Eleonora Giuseppe hai sentito Amelia Mascioli diceva lo sport se non stai bene anche fisicamente e poi c'è sempre questo che è diventato è diventato mio refrain lo dico quasi tutte le domeniche che con lo sport nel Molise non c'è stato c'è stato un solo contagiato uno solo che è venuto in studio a Termoli la settimana scorsa ospite di Pino Somma e di Domenica Sport ma infatti lo sport è stato anche a livello nazionale il settore che ha pagato Dazio forse più di tutti già da marzo con la sospensione di tutte le attività sportive dei campionati e anche in questa seconda fase lo sport è stato preso di mira un po' da parte del Ministero ma anche dalle autorità locali con una sospensione che nella storia diciamo recente a memoria d'uomo a memoria nostra non ha avuto uguale almeno credo dal secondo dopoguerra come diceva Amelia Mascioli lo sport è una componente sociale importante e sport vuol dire prevenzione e da quello che diciamo si legge in questi giorni non a parte diciamo i campionati diciamo dei vari sport l'attività sportiva delle palestre delle piscine dovrebbe restare chiusa ancora a lungo e secondo me sarebbe un errore anche perché con le giuste precauzioni come sta avvenendo in altri settori come la scuola ma anche dopo tutti i soldi che gli hanno fatto spengare che è solo l'attività sportiva degli atleti di interesse nazionale però devo dire che cioè l'agonistica o di interesse pre-agonistica agonistica però devo dire che il ministro non era favorevole alla chiusura delle palestre degli impianti natatori in generale io credo che avesse avuto contezza del fatto che i contagiati e il divulgarsi del virus non era da ricercare nelle palestre e nello sport peraltro il direttore faceva bene ad accennare a quanto denaro è stato investito dalle strutture soprattutto quelle più organizzate faccio il caso dell'M2 faccio il caso di grandi palestre dove ci sono persone che di quel lavoro fanno il lavoro della vita nel senso che sono imprenditori nel mondo dello sport un investimento depauperato in neanche un mese e venti giorni ma infatti un attimo solo Giuseppe perché a proposito di grandi palestre saluto via Skype Maurizio Rivellino presidente del CUS Molise buonasera a te Maurizio buonasera direttore buonasera a tutti ciao Erika allora stavi seguendo no? che cosa sì sì assolutamente penso che anche tu come CUS sei assolutamente in linea ah sì certo beh insomma il tema è questo la pandemia da una parte ha bloccato proprio l'attività motoria di tantissime persone che ormai senza lo sport diciamo si sentono si sentono praticamente non stanno bene io in questi in questo mese e mezzo che abbiamo dovuto richiudere gli impianti ho trovato tantissima gente che mi chiede quasi come se se dipendesse da noi di riaprire gli impianti a questo si aggiunge si diceva interlocutori lo dicevano tutto il diciamo lo sforzo che abbiamo dovuto fare per diciamo contrastare la diffusione del virus con interventi di sanificazione continua acquisto di protezione individuale e quant'altro è sicuramente una situazione che ci vede in forte difficoltà anche perché da una parte ci stanno appunto i nostri iscritti i nostri tesserati i nostri studenti e i nostri ragazzini che vogliono vorrebbero praticare attività sportiva dall'altro ci sono ci sta tutto un mondo di operatori sportivi che vivono anche di sport nello sport c'è tanto volontariato ma una struttura come il CUS con dipendenti collaboratori istruttori e quant'altro è chiaro che sente pure la responsabilità rispetto a giovani e anche padri di famiglia che hanno reddito dall'attività e dalla gestione degli impianti io spero che questo termine del 15 gennaio non si protragga e quindi spero che nel 16 gennaio tutti quanti possiamo con la massima attenzione tutte le precauzioni possibili possiamo ritornare a praticare sport va bene Maurizio io ci conto profondamente anche perché parte la campagna di vaccinazione ragazzi dopo domani il 26 il 27 dicembre sono previsti da noi già 6 mila vaccini appunto cioè voglio dire non è che stanno là voglio dire a rappresentare che cosa se parte anche la campagna di vaccinazione anche perché poi so che c'era ieri la battuta l'epifania l'epifania questo governo se lo porta via però insomma noi non ci interessiamo di questo una battuta perché devo andare in pubblicità Maurizio tu ci sei sempre stato ci siete anche quest'anno sul calendario di Telemolise sì grazie è sempre un piacere però ecco io voglio cogliere l'occasione per farvi complimenti perché in questo in questi momenti è importante continuare quelle attività di promozione e di valorizzazione delle attività diciamo in questo caso attività sportive e Telemolise che è sempre stata attenta a questo a questo tipo a questo tipo di attività riproporre anche in questo periodo chiaramente in forma a distanza con tutte le precauzioni io credo che sia un grosso un grosso merito complimenti ancora Antonio grazie Maurizio in bocca al lupo e buon Natale ma poi ci sentiamo buone feste va bene grazie grazie a Maurizio Rivellino Erika ci dobbiamo fermare sì solo al volo ci fermiamo può fermare di ritorno dalla pubblicità faremo una carrellata veloce di tutte le società che sono presenti nel nostro calendario ci vediamo fra poco allora torniamo torniamo in diretta siamo insieme al nostro amico Romeo Trotta dunque Giuseppe Formato e tanti amici ma torno un attimo a Termoli con Pino Somma tra l'altro in posso dire quasi divisa voglio dire da mare no? perché c'ha l'occhiale alla lina Pino questo occhiale alla lina Wertmühle anche la sciarra anche la sciarra ti dà un tocco di non di non so spiegare travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto oppure Mimì metallurgico ferito nell'onore sì direttore sei avanti Pino avanti fammi salutare Giuseppe Formato ciao ti ho visto con questo nuovo look davvero bello il presidente Pino che dici allora rispetto a questo che stavamo dicendo adesso a parte lina Wertmühle non lina Wertmühle gli occhiali gli occhiali guarda mi dovete credere abitualmente in ufficio ho proprio gli occhiali gli occhiali bianchi quelli che si smontano davanti questi invece sono da vista per diciamo per guardare un attimo meglio perché con gli anni che passano qualche grado purtroppo va via però è tutto abbinato Erika Pino è un pandan dalla testa anche l'orologio anche l'orologio è bianco allora gli auricolari si fa certe risate ieri sera si è fatto certe risate e anche ieri sera durante la vera leonora durante domenica sport allora collegato via Skype il presidente del comitato regionale della FIGI Cimolise Piero Di Cristinzi Piero Buonasera a voi Buonasera Piero tutto a posto sì All'incirca sì diciamo di sì dai All'incirca sì cerca di centrare la telecamera allora dai perfetto così allora diamo una risposta a tutto il calcio dilettantistico regionale tu hai detto che si ripartirà naturalmente se non ci saranno più scossoni il 31 di gennaio sì in effetti questo quello che abbiamo deciso di ripartire di dare un impulso forte alla ripartenza abbiamo già deciso il 31 riparte in cendenza in promozione e poi a seguire la settimana successiva tutti gli altri campionati quindi insomma tu sei deciso tu sei stato uno decisionista io ti ho dato io ti ho dato spesso ti ho dato spesso dunque l'onore delle armi perché ho detto spesso che se non ci fossi stato tu difficilmente lo sport nel Molise si sarebbe riavviato quindi insomma ci hai creduto dal primo momento credo che in un momento così triste così difficile con questa pandemia che non da tregua credo che abbiamo fatto delle cose abbastanza importanti cercando di far rimanere insomma il sistema calcio nella nostra regione un punto di riferimento importante per il periodo che abbiamo fatto attività posso dire con franchezza che le cose sono state abbastanza bene e anche adesso che c'è stato il fermo di nuovo praticamente all'orizzonte c'è una ripartezza e crediamo di portarlo in porto di portare i campionati in particolar modo l'eccellenza e la promozione che sono proprio lo specchio delle attività calcistiche regionali di portarle fino in fondo sia all'antale come il ritorno del girone quindi è intenzionato perché Giuseppe tu chiedevi proprio questo quando cominciava e se finiva tutto quando sei venuto diceva ci chiedeva Giuseppe formato ma ci sarà soltanto il girone d'andata no? questa è la domanda che hai fatto tu se lo fanno se porteranno a termine tutto il campionato secondo me sarebbe un bel segnale per tutto il movimento dello sport secondo me sarebbe un bel segnale per il prodotto per il sport guarda stiamo programmando la ripartenza in modo che si vada fino in fondo abbiamo avuto l'autorizzazione che possiamo chiudere i campionati anche al 15 di luglio e questo è un segnale molto positivo da parte della riga di lettanti della stessa federazione e faremo in modo di portare a termine il campionato secondo quanto previsto all'inizio dell'attività in particolar modo il campionato d'eccellenza che è legato fortemente ai campionati nazionali dobbiamo dare la certezza a chi sta partecipando di poter disputare un campionato per l'intero e cercheremo di farlo con tutte le nostre forze e con la grande collaborazione di tutte le società Piero tu sei stato anche tu sempre presente alle nostre manifestazioni e te le molise nel cuore anche alla presentazione del calendario quindi è vero Erika il calcio è largamente rappresentato in questo calendario troviamo le società di serie D Campobastoli Impiagnonese Astogirardi e Matese di Eccellenza il Campodipietra il Gambatesa il Boiano l'Ururi Risernia il Baranello e di promozione Ripalimosani Turris Termoli 2016 Spinete e Trivento quindi insomma il tuo augurio credo sia un augurio di benessere e di sport e tanta visibilità di benessere e di sport e tanta visibilità di benessere e di sport di benessere e di sport poi mai come in questo momento arriva questo nuovo calendario che molto probabilmente è la speranza di tutti che il 2021 vada anche a cancellare quello che è stato il 2020 che credo che sia stato un anno difficilissimo proprio nella storia dell'umanità e anche per tutte le attività sportive Va bene Piero grazie grazie di questo contributo buon Natale a te e alla tua famiglia buon Natale speriamo bene pieno di buona salute a tutti grazie a Piero di Cristinzi che ringraziamo per questo contributo vero Erika perché poi sì grazie sempre a Piero di Cristinzi il presidente da Figgici Molise anche perché poi il mondo dello sport avanza se così possiamo dire un campionato europeo e soprattutto le Olimpiadi per cui voglio dire questo 2021 se è vero come tutti speriamo che dalla metà di gennaio con l'entrata a regime delle vaccinazioni si possa vedere la luce fuori dal tunnel insomma poi ci sarà da recuperare tanto in termini di sport quanto alle società poi che hanno presenziato nel nostro calendario oltre a quelle del calcio che citavamo insieme a Piero di Cristinzi abbiamo la Molissana Basket Campobasso il Centro Sportivo M2 la Nuova Pallavolo Campobasso lo Sporting Bovianum il Champions Sport Team di Isernia il Cus Molise il ringraziamento ai fotografi Stefano Saliola Fabio Boscarino Enzo Altobello e Antonio Di Pardo Eleonora Sì direttore ci sono già i primi messaggi quindi ne approfitto per leggerne qualcuno e parto da Vittorio Reale che non poteva mancare neanche questa sera presente anche in questa presentazione del calendario 2021 della redazione sportiva di Telemolise buonasera al direttore Antonio Di Lallo Erika Daniela tutti gli ospiti e elenca un po' tutti noi della redazione sportiva di Telemolise anche gli ospiti via Skype e i giornalisti nella redazione sportiva di Termoli e ci ha inviato anche una foto in cui un selfie sostanzialmente con la televisione sostanzialmente perché ci sta seguendo e poi ci è arrivato un messaggio anche da Amietta che era insieme a Piero con noi ieri sera e ci scrive Buon Natale carissimo direttore a te famiglia e a tutto lo staff di Domenica Sport da Mietta proseguo ancora con i messaggi Erika Mastropietro sempre una garanzia passano gli anni ma la tua bravura e la tua professionalità restano intatti io su questo fatto che passano gli anni non sarei tanto contento no però sul fatto che le persone ancora mi inviano per ogni mia ricomparsa e per ogni mia apparizione attestati di così di stima mi riempie il cuore di gioia sono 26 anni che stai con me 26 grazie grazie non so chi è grazie complimenti anche a Romeo Trotta sempre una garanzia ancora direttore complimenti per il calendario e per il lavoro che avete svolto ogni giorno per non far morire lo sport molisano e questo è un messaggio molto importante che si ricollega anche con il discorso che ha fatto Daniela Ziccardi la nostra caporedattrice in apertura e ancora Michele Dagambatesa auguroni a tutta la redazione sportiva per le festività natalizie e complimenti per il calendario grazie ancora a tutti coloro che ci hanno scritto e vi invito a continuare a scriverci il numero è 33126 5x2 Romeo Trotta hai sentito il presidente di Cristinzi devo dire la verità se non era per lui io l'ho visto sempre in prima linea sempre pieno di idee non solo pieno di idee ma è uno che fa si prende la responsabilità in questo paese secondo me servono le persone che si prendono la responsabilità e vanno fino in fondo spesso si parla troppo e si lavora poco di Cristinzi è uno che le responsabilità se le è sempre prese ha ragione io sono d'accordo con lui il campionato si deve si deve no si può si deve fare dobbiamo fare di tutto per farlo questo paese deve ripartire deve ripartire anche grazie a noi sicuramente deve ripartire in sicurezza ci dovranno fornire delle regole che rispetteremo ce l'hanno date ce ne daranno altre lo faremo però dobbiamo farlo anche perché lo sport è fondamentale non solo per il fisico per la psiche per la socialità è una delle branche più importanti dell'attività umana quindi mettere da parte io ti dico sinceramente da quando non vado in palestra mi sento spento proprio avrei la necessità fisica di muovermi e credo che come me tutti quindi l'idea di fare un campionato di portarlo fino in fondo è un'idea correttissima peraltro lui evidenziava che il campionato di eccellenza è propedeutico alla serie D che è un campionato nazionale ma anche una fase nazionale con il campionato e quindi è giusto che prosegua nel miglior modo possibile allora Erika abbiamo via Skype in linea non è un nostro amico con tanto tanto piacere salutiamo Domenico Di Iorio imprenditore il titolare dell'Acqua Molisia e Domenico ecco ti vediamo buonasera Antonio buonasera Erika intanto un po' al buio forse ecco adesso un po' meglio buonasera ben ritrovato anche per me è un piacere rivedervi solo che non è possibile stare vederci dal vivo speriamo di di essere presente nella prossima trasmissione dopo gennaio vabbè sicuramente Domenico c'entra soltanto un attimo la telecamera perché ti vediamo a metà dall'altra parte dall'altra parte ti guidiamo noi è perfetto così perfetto così allora dicevo Domenico Di Iorio non è soltanto un uomo sportivo un imprenditore di grandi prospettive perché con l'Acqua Molisia e tutto l'indotto hanno fatto davvero lui e il fratello Gino hanno creato veramente un qualcosa di importante ma è soprattutto parte è vero Domenico della famiglia di Telemolise sì questo è un discorso che portiamo avanti da anni legato con la famiglia Telemolise con tutto lo staff siamo grati di essere con voi e siamo presenti anche in questa manifestazione per quanto riguarda il calendario che è portata una parte della nostra famiglia infatto c'è la foto di Martina Iacampo una ragazza determinata combattiva che anche quest'anno ha primeggiato è stata la prima nel rally in Molise nella categoria femminile e questo veramente ci fa piacere anche in altri sport siamo presenti come sponsor in altre discipline e speriamo di continuare sempre così certo io quest'anno Antonio volevo fare una premessa che ho lasciato ho lasciato il calcio il calcio a 5 è stata una scelta mia personale molto ho riflettuto e per quest'anno mi sono messo da parte speriamo che l'anno prossimo ci possiamo rivedere con se c'è la possibilità di ricominciare questa questa avventura ma sicuramente sicuramente la ricomincerai anche perché diciamo la verità qui lo puoi dire perché siamo insomma non ci sente nessuno praticamente hai lasciato però ecco cerca di centrare poi non lo toccare più il cursore perfetto così va bene e dicevo non ci sente nessuno hai lasciato anche perché hai rimasto un po' deluso no? dello scorso del comportamento dei ragazzi mi spiace non voglio fare i commenti comunque dopo tanti anni che ho accaduto i campi del calcio a 5 prima della promozione l'eccellenza per me è stata una mortificazione comunque adesso la cosa è fatta poi sono stato fortunato che il campo che la stagione agonistica si è fermata quindi per me riprenderò al più presto va bene Domenico ti volevo dire che cosa qual è il tuo commento a questo 2020 anche se voi come azienda insomma della della catena alimentare alla fine non avete sofferto molto però insomma è stato un anno triste sì un anno triste per tutti la nostra azienda ringrazio di Dio non ha subito dall'incarenza da quanto riguarda le vendite perché è un settore alimentare quindi siamo aperti e lavoriamo in ciclo continuo però questo mi preoccupa per il futuro per gli altri per le altre categorie perché metterebbe in ginocchio tutta l'economia molisana e molisana è un'italiana di tutto il mondo questa pandemia ha messo in ginocchio tutto e speriamo che al più presto venga debellato questo virus e possiamo ripartire alla grande Domenico un'ultima cosa un pensiero per il nostro calendario anche tu insomma se ci manchi tu una trasmissione di Telemolise praticamente non la facciamo è come se manca l'arbitro a una partita di calcio come fai ad iniziare cioè non sarebbe possibile iniziare quindi insomma è stata è una bella idea condivido perfettamente e si deve ripetere ogni anno io gli altri anni sono stato sempre presente alle presentazioni poi quest'anno è successo quello che è successo e quindi mi ha fatto piacere di avermi coinvolto come azienda e a livello personale va bene Domenico grazie grazie a voi voglio approfitto per fare gli auguri di buone feste buon Natale a tutti i presenti e a tutto il mondo sportivo morisano e non buon Natale a te a tua moglie Maria Felicia ai tuoi figli e tutta la tua famiglia ti vogliamo bene Domenico ti cambiano con tanto affetto Antone grazie sei sempre con noi ciao ci vediamo sei sempre con noi grazie ciao Domenico Domenico è una di quelle persone che ti spalancano anche le porte di casa quando quando ti trovi ad andarlo a trovare sono quelle persone genuine che ti trasmettono tanto tanto davvero tanto speriamo che si riappassioni anche al calcio a 5 e si riparte di slancio speriamo che riesca a smaltire la delusione perché poi alla fine è stato un fatto di delusione Marco Somma vediamo un po' che è vestito in maniera molto più sobria non ha sicuramente gli occhiali ti è piaciuto Marco? la battuta di Erika gli occhiali alla lina per Müller buonasera direttore intanto si mi ha fatto molto ridere la battuta un abbinamento fantastico ci manca un po' di nero per richiamare il bianconero però va bene così il nero porta male adesso io non vorrei andare sulle fedi calcistiche però insomma a me personalmente il bianco e il nero mi causa più di qualche scompenso probabilmente il nero va bene solo per l'abbigliamento perché sfina tutto il resto via Marco da poco laureato brillantemente ti abbiamo fatto anche i complimenti anche tu continui a far parte della nostra famiglia insomma tramite tuo padre ma insomma ormai sei uno di noi sì esatto direttore è un piacere ritornare qui non ci venivo da almeno un paio d'anni quindi è un orgoglio venire qui soprattutto per la presentazione di questo calendario che sperando che sia un anno il 2021 sicuramente migliore rispetto a quello che abbiamo passato e sono a Modena mi sono lavorato brillantemente in direzione e consulenza di impresa e adesso ho intrapreso anche la carriera lavorativa sempre a Modena sempre a Modena lavorativamente parlando mi sono spostato a Reggio Emilia nella casa del Sassuolo invece abito comunque a Modena va bene beato te che la domenica va a vedere insomma partite di Serie A è vero Giuseppe? sperando che si possa tornare a vedere partire con il pubblico perché vedere partite è una tristezza diciamo non è calcio non è sport non è sport senti ma tu a livello di per esempio di giornale telematico io lo vedo tutti i giorni insomma CB Live anche a questo livello avete sofferto? ah sicuramente sì anche perché non dimentichiamo che viviamo in una regione dove già c'era una crisi sicuramente a livello economico e quest'anno secondo me si è registrata una crisi simile a quella del 2008 e quindi alla fine anche con aziende amiche non puoi più di tanto calcare la mano ma penso come è potuto avvenire anche con aziende come Tere Molise sicuramente con le dovute proporzioni e per questo io dicevo occorre che con coraggio chi è al governo si prende le responsabilità e prima o poi la vita dovrà ricominciare perché fare secondo me portare avanti una vita come quella di oggi per altri 5-6 mesi porterà sicuramente qualche vita in più salvata a livello di contagi però tra 6 mesi 8 mesi si conteranno i morti economici di una regione ma di una nazione che comunque si sta spegnendo io parlo spesso con operatori economici della città che comunque stanno tirando la cinghia speravano un dicembre migliore sicuramente non è stato come gli altri mesi ma non è stato come gli altri dicembre e le chiusure le zone rosse dal 24 sicuramente non aiutano quindi finito un anno difficile la speranza è che si possa ricominciare ovviamente in sicurezza perché ci vuole anche rispetto per chi sta lavorando all'emergenza sanitaria ma la vita prima o poi deve ricominciare che ne pensi Romeo? assolutamente d'accordo con Giuseppe così io l'ho visto anche nella nostra professione c'è una grossa crisi ma a proposito ma le udienze? le udienze si fanno si fanno diciamo in sicurezza si continua a lavorare ovviamente si cerca di fare un numero di udienze inferiori proprio per garantire la sicurezza si sono stati fissati delle fasce orarie per permettere a chi viene in tribunale di non creare assembramenti e quindi rispettare le regole e dicevo sicuramente c'è un periodo di grande difficoltà economica le aziende molisane ma non solo quelle molisane penso le aziende italiane sono in crisi però bisogna ripartire assolutamente secondo me sarà fondamentale spendere bene i soldi che arriveranno dall'Europa io penso che serve una programmazione seria ragionata tenendo conto di quelli che sono i problemi e di quelle che sono le priorità e secondo me le priorità in questo momento sono sicuramente il lavoro per i giovani l'occupazione e la sanità io queste ritengo che sono le occupazioni o meglio i settori dove bisogna investire di più e meglio una nazione in cui non ci sono prospettive per i giovani è una nazione senza futuro io non mi preoccupo tanto per me ma mi preoccupo per i ragazzi per le generazioni a venire che in questo momento già sono state fortemente penalizzate da questa pandemia e che spero possano nel futuro come dire avere una sorte migliore va bene ce lo auguriamo tutti quanti Erika avevi parlato anche di società molisane abbiamo sempre collegato via Skype Giorgio Palmeggiano che è dirigente della squadra del città di Isernia Fraterna Rocca Sicura eccolo qui inquadrato buonasera Giorgio buonasera direttore buonasera tu sei collegato da Roma si da Roma da Roma hai sentito poco fa intervenuto il presidente di Cristinzi insomma si dovrebbe ripartire si si ho sentito l'intervento del presidente di Cristinzi io ci avevo parlato a telefono due o tre giorni fa quindi più o meno mi aveva anticipato queste cose che poi ha detto anche anche poc'anzi si dovrebbe ripartire sì diciamo che le date sono quelle del comunicato del CR Molise fatto un paio di giorni fa speriamo nel senso siamo fiduciosi dipende tutto chiaramente dai numeri che verranno in questi giorni post natalizi ma insomma noi siamo pronti per ripartire pure perché ecco effettivamente c'è voglia anche di di sport adesso in senso generale prima sentivo un ospite parlare di sport effettivamente è vero c'è bisogno di sport c'è bisogno di fare attività fisica e noi abbiamo bisogno anche sì sicuramente di di ripartire senti Giorgio ma tutti tutte queste misure che andranno in essere i prefestivi e i festivi adesso il primo blocco è dal 24 al 27 giusto sì che cosa ne pensi che qual è la tua impressione bella domanda nel senso che allora non è diciamo che allora a prescindere che proprio questa sera stavo leggendo proprio prima di connettermi con voi diciamo delle chiarificazioni che faceva il mi sembra il ministero proprio su alcuni punti che non erano non erano molto chiari hanno fatto una sorta di di compendium dove spiegano quello che puoi fare e che non puoi fare diciamo che insomma è sicuramente vengono in un periodo importante dell'anno un periodo per tutti nei quali siamo abituati a vedere i nostri affetti i nostri cari quindi insomma credo siano particolarmente penalizzanti in quanto cadono proprio in un momento che noi tutti avremmo desiderio e bisogno di di socialità e dopo un anno così duro e faticoso io l'unica cosa che mi posso augurare è che quest'ennesimo sacrificio che noi dobbiamo tutti fare serva a qualcosa nell'inizio dell'anno nuovo perché altrimenti alla fine altrimenti adesso non è molto televisivo però diciamo altrimenti diventa che rimaniamo diciamo due volte buggerati diciamo così siamo buggerati puoi restare un attimo insieme a noi Giorgio tanto si è collegato via Skype perché abbiamo un impegno di carattere pubblicitario Eleonora intanto è arrivata qualche fotografia qualche messaggio sì direttore secondo collegamento con l'area social ci sono arrivati dei messaggi ma ci tengo innanzitutto a far vedere un paio di fotografie quindi chiedo alla regia ecco subito di mandare in onda questa fotografia che ci è stata mandata da Pino Somma ieri sera con Antonio Di Pardo che potete vedere sulla destra Pino Somma Amedeo Nardella Adip che noi lo conosciamo come Adip e sulla sinistra poi Alessandro Nardella che devo dire nelle foto sorride sempre in maniera in maniera sconvolgente Alessandro Nardella secondo me andrebbe bene a Campobasso il giovedì santo che escono gli apostoli eh? l'avete visto? tu l'hai visto qualche volta no? l'avete visto per Campobasso sì eh la sera tranne giovedì santo di aprile scorso che sono rimasti a casa anche gli apostoli però insomma Alessandro sembra ah insomma se gli mettiamo un cappello di quelli tipo San Matteo no adesso non mi fate io non sono molto no 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 non so se Matteo c'era non lo so ma non chiederlo a me perché peggio di peggio lasciamo stare le citazioni proprio non ci addentriamo comunque Alessandro Nardella lo proporro come uno dei tredici apostoli se ci sarà l'uscita il prossimo aprile io spero di sì speriamo nel coro del venerdì santo insomma tra giovedì e venerdì eh no ma il coro vanno tutti capito eh vabbè però c'è sempre le caratteristiche sì sì ne approfitto per salutare Alessandro ovviamente si scherza e poi c'è questa fotografia che ci è stata mandata da Gianni Bruno eh che ci scrive vi seguo da casa un saluto ovviamente Molise a calci che eh va in onda domani sera eh eccezionalmente eh sempre alle ore 21 quindi eh l'appuntamento con Molise a calci a domani domani sera Gianni Bruno ci ha eh ceduto tra virgolette il posto per la presentazione del calendario del 2021 e ne approfitto per leggere giusto un paio di messaggi ma dove sta la fotografia? io non la ho ovviamente chiedo alla regia di mandare in onda eccola qui Gianni ci potevi mandare un selfie perché lo schermo lo vediamo anche da qui ma boh ma che fotografia è? Gianni la biva sta guardando la la biva va conservata in frigo ci ha mandato la prova comprovata che sta seguendo la trasmissione perché è la fotografia al televisore sì ma non va bevuta la biva va tenuta in frigo e poi eh leggo qualche messaggio prima della pausa pubblicitaria auguroni a tutta la redazione sportiva eh direttore occhio ora che tornate a casa con la certificazione scherzi a parte un augurio a tutti voi e complimenti anche perché sforeremo tra virgolette il coprifuoco ovviamente per comprovate ragioni lavorative poi ci auguriamo ci auguriamo che dopo il 15 gennaio palestre e varie attività possano riprendere i ritmi regolari ce lo auguriamo eh direttore domani sera si gioca allo Juventus Stadium sì siamo commosi una volta all'anno si gioca capita allo Juventus Stadium e me ne può veramente di meno no no come hai detto tu siamo commosi no però a proposito del coprifuoco qualunque sia il risultato io continuerò no no ma poco interessa è proprio è la storia della persona capite per me il bianco e nero sono dei colori che francamente insieme magari separatamente li riesco anche ma il telespettatore ti ha voluto provocare e tu hai colto la provocazione del telespettatore no ma che provocazione allora torno da Giorgio Palmeggiano Giorgio anche perché diciamo la verità deve andare a dormire tua figlia giusto eh no già dorme già dorme altrimenti sarebbe stato difficile il collegamento io mi ricordo una volta abbiamo fatto un collegamento con te è stato un dramma o no sì beh vabbè perché dipende quando sono sono a casa perché tu hai gemelli hai gemelli io ho due gemelli sì un maschio e una femmina quindi quando sono a casa e diciamo sono svegli e lo sono almeno 18 ore al giorno diventa problematico diciamo Beato Dio Beato Dio sono svegli assolutamente 18 ore al giorno almeno a 6 ore puoi dormire no? sì diciamo di sì ci sono anche ma se quelle 6 ore non coincidono con le ore della notte lì è finita lì è finita Giorgio non hai possibilità molto spesso purtroppo accade questo molto spesso accade questo va bene Giorgio allora noi ci ripetiamo intanto credo che anche tu voglia fare insomma gli auguri a tutti i tifosi dell'Isernia ma più in generale a tutti gli sportivi assolutamente allora io colgo l'occasione per fare gli auguri innanzitutto a tutti gli sportivi a scendere gli sportivi molisani e chiaramente in particolar modo ai nostri ai nostri ai nostri affezionati tifosi quindi a tutti quelli dei tifosi del città di Sernia fraterna Rocca Sicura io auguro buon Natale buon anno a tutti quanti e conto che quelle date che abbiamo detto prima spero siano realtà per rincontrarsi rincontrarsi tutti e riniziare diciamo una vita un po' più come dire un po' più normale e colgo l'occasione chiaramente direttore per fare gli auguri a te a tutta la tua relazione a tutte le persone che lavorano a Telemolise che insomma a parte tutto sono veramente tutte molto molto cortesi e veramente uno staff appiatato e sempre sempre pronto per qualsiasi cosa ad aiutare quindi auguri a tutti voi di cuore buon Natale un bacio ai gemelli grazie però devo dire che stasera stasera il capello insomma è composto il tuo la tua stasera si ho avuto anche il tempo di sistemarvi normalmente dopo le partite è più difficile ti ho visto delle volte veramente con i capelli dipende pure dalla squadra direttore da quello che dopo la partita dipende da quello che ho visto buon Natale Giorgio buon Natale a te grazie buon Natale a tutti e alla tua famiglia Erika ci dobbiamo fermare ci fermiamo la pubblicità ci vediamo fra pochissimo della redazione sportiva di Telemolise 2021 Eleonora ti abbiamo tolto la linea no vabbè direttore sono arrivati altri messaggi ci sta seguendo anche Pierpaolo Amodei che ci ha appena scritto un saluto anche da parte mia al direttore ad Erika complimenti sempre al top le sue performance giornalistiche che dovrebbe sfoderare più spesso un affettuoso saluto anche all'amico Giuseppe Formato complimenti per la realizzazione del calendario buone feste a tutti volevo aggiungere direttore questa attenzione che abbiamo dato al mondo social e ai messaggi quest'anno ci ha accompagnato un po' da marzo fino alla chiusura del 2020 ed è stata una novità che però ci ha portato tanto di positivo perché abbiamo ricevuto veramente tanto sostegno tanto seguito ed è stato un importante monito per tutta la redazione sportiva di Telemolise per continuare a lavorare e a metterci tutta la passione di cui questa sera stiamo parlando nell'offrire un prodotto quanto più possibile di livello nonostante lo sport sia stato completamente fermo e lo sappiamo molto bene quindi volevo sottolineare questa novità che nonostante sia stata condizionata da delle situazioni avverse tra virgolette ci ha portato diciamo ci ha aperto un nuovo mondo che è appunto il mondo dei social e questo contatto diretto con i telespettatori che veramente ci hanno inondato di messaggi e di affetto allora dirò brevemente che dall'11 marzo al 9 credo di settembre non si è giocato nemmeno a carte era vietato Giuseppe non ci credi si poteva giocare tu sei anche presidente della bocciofila non si può giocare si può giocare a carte non si può giocare se vado a casa di Romeo possiamo giocare a carte sembra da farlo stale ma neanche a dama e neanche a scacchi perché la distanza è troppo ravvicinata rispetto al droplet il periodo in estate che si poteva giocare a carte chi gioca a bridge fa le gare doveva sanificare ogni smazzata carte e mani ho capito vabbè diceva nada tanti anni fa e le bocce anche come si fa a sanificare la boccia l'hanno sanificata no però praticamente vabbè ora siamo fermi anche le bocce sono ferme possono giocare solo gli atleti di preminente interesse nazionale che sono gli atleti di categoria A però diciamo che non puoi toccare le bocce dell'avversario e l'arbitro deve utilizzare i guanti ecco e poi ne vogliamo dire un'altra di cose per giocare a tennis avevano pensato che si doveva giocare con un guanto con la racchetta e l'altra mano con un guanto trasparente perché per raccogliere la pallina bisognava raccoglierla con un guanto poi hanno rinunciato al guanto per raccogliere la pallina e hanno pensato che dovevano essere sanificate le palline ogni 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 game è difficilissima da sanificare perché non ha neanche una superficie liscia ragazzi è impensabile allora altro collegamento sky Antonella Policella Sporting Bovianum buonasera Antonella ben ritrovata ciao buonasera a tutti ciao Erika ciao Antonio ciao Eleonora grazie per l'invito Antonella per te che sei prof di educazione fisica nella vita con questa didattica a distanza ci fai ci fai un esempio di come imposti una lezione con i tuoi alunni con la dad di educazione fisica allora sì diciamo che la nostra dirigente ha voluto che da casa facessimo insomma un po' di attività pratica proprio per cercare di non fare impigrire i nostri studenti e io faccio una lezione regolare faccio un riscaldamento facciamo una corsetta sul posto degli esercizi per gli arti superiori quindi un po' di attivazione generale e poi facciamo una lezione di tipo insomma una sorta di circuit training degli esercizi in sequenza utilizzo la musica così anche per motivare gli studenti e questo serve sia a noi che che agli studenti insomma che stanno a casa per cercare proprio di tenerli attivi il più possibile anche perché stanno sempre seduti davanti al computer e quindi cerchiamo di tenerli in attività le palestre sono chiuse l'attività tu sei riuscita Antonella a lavorare con qualche tua atleta se considerata di interesse nazionale? Sì sì noi stiamo facendo attività però le ragazze sono poche sono cinque sei ragazze che si stanno allenando e purtroppo soltanto con loro facciamo attività di preparazione fisica sono terminate le gare diciamo da circa due settimane le gare nazionali e adesso stiamo preparando in preparazione per campionati di serie C che è una gara che inizierà diciamo nel mese di febbraio intorno alla metà di febbraio dovrebbero insomma le gare nazionali dovrebbero proseguire in assenza di pubblico come adesso insomma sono state fatte adesso con tutto il rispetto delle normative chiaramente anti-covid e con insomma delle scaglionate con dei timing di lezione di un certo modo e poi ovviamente è tutto rimandato all'anno nuovo per la programmazione dell'attività invece quella più corposa no? quella dei bambini e delle bambine noi ci auguriamo questo soprattutto questo che ripartiamo con soprattutto con l'attività di base perché vediamo che sentiamo i genitori sentiamo insomma ci sentiamo con tutti quanti le ragazze loro soffrono soffrono di stare a casa di insomma di non poter venire in palestra e di non poter fare attività e diciamo che questa è la cosa veramente che ci insomma noi ci teniamo particolarmente che insomma si riprenda l'attività in palestra perché così possa riprendere un po' tutta l'attività di base ma non solo dei piccoli anche degli adulti di quelli che fanno proprio attività per benessere psicofisico l'attività la cosiddetta attività amatoriale che praticamente è completamente ferma già da parecchio tempo Antonella ci siete anche voi sul calendario quest'anno di grazie siamo contenti felicissimi di farne parte soprattutto insomma che anche la ginnastica ritmica è stata diciamo inserita in questo calendario ma tu veramente voi ci siete sempre vicini partecipate sempre alle nostre manifestazioni importanti quelle insomma che riusciamo ad organizzare e anche quest'anno a marzo se tutto andrà bene organizzeremo il campionato di serie C se chiaramente se l'attività si prenderà normalmente regolarmente quindi noi vi ringraziamo che siete sempre presenti e che chiaramente ci date un po' di spazio un po' di visibilità anche per questo sport cosiddetto minore Antonella per far condicio complimenti anche a te per l'arbero di Natale hai notato il tocco delle donne è bello è luminescente ti voleva salutare a me piace luce gialla luce calda e palline rosse palle rosse perché così mi piace l'albero di Natale ti voleva salutare Eleonora ciao Eleonora ciao ci tenevo a mandarle un grandissimo abbraccio a farle gli auguri di buone feste e aggiungere che non avevo dubbi che anche con la didattica a distanza facesse allenare gli studenti non avevo dubbi gli studenti eh sì un bacione grande speriamo di rivederci presto grazie va bene Antonella buon Natale facciamo del nostro meglio cerchiamo di trasmettere sempre un po' di positività soprattutto in questo periodo attenzione a usare questa parola perché questa parola è positività nel senso del vocabolario no no non nel senso vabbè ormai è diventata giustamente come dicevi una parola un po' nel senso nel senso di contrario che negativo contrario di negativo dobbiamo essere fiduciosi grazie Antonella fiduciosi fiduciosi sicuramente buon Natale grazie a voi auguri di buon Natale a tutti un caro abbraccio chiaramente a tutti i telespettatori anche a voi buon Natale e buon anno buon Natale e buon anno Pino Somma allora che facci un commento a tutto quello che stai sentendo più che un commento direttore vi permette di di raccontare un aneddoto che è successo sabato siamo andati a seguire la partita vastese Monte Giorgio a fine partita la classica routine con le interviste ai protagonisti e così via poi intervistato Edimengo che è l'allenatore del Monte Giorgio ricordavo che anni fa nel 2004-2005 Edimengo che giocava allora con la Fermana in Serie C fu acquistato dalla Juventus e lui rifiutò clamorosamente il passaggio dalla Fermana alla Juventus quindi in Serie A fece abbastanza scalpore però poi la cosa andò via piano piano a fine partita sabato Edimengo l'allenatore del Monte Giorgio che ha giocato e ha vinto contro la vastese ho fatto un'intervista quella di fine gara a proposito della partita poi ho detto mister possiamo scambiare altre due chiacchiere vorrei parlare un po' del trasferimento alla Juventus ha detto lascia lascia lasciami perdere è andato via è scappato via ha detto grazie mi ha salutato è andato via probabilmente una cosa che gli è rimasta un po' male questo rifiuto che è stato poi salito alla ribalta in quegli anni un po' come il rifiuto che fece inizialmente Virdis alla Juventus negli anni 80 pensavo fosse un mito questo questo menco invece l'unico mito rimane Gigi Riva perché Gigi Riva è stato l'unico a dire no e a confermare il no e a restare a Cagliari è vero Romero? grande Gigi Riva grande Rombo di Tuono Rombo di Tuono che bomber Rombo di Tuono ma quante ne abbiamo viste Romero in questo periodo di lockdown ma Antonio voi per esempio a caccia ci potete andare ma guarda anche questo per esempio il fucile va sanificato ti posso dire una cosa ci sono una serie di sport tipo la caccia la raccolta di tartufi la pesca che secondo me potrebbero essere esercitati tranquillamente che ora nel periodo del lockdown durante le vacanze invece non potranno essere esercitati e questo francamente mi sembra un'esagerazione perché sono degli sport assolutamente innovi come tu dicevi durante la pubblicità ma se uno se la fa una passeggiata a Capracotta sì ma vai a fare trekking in montagna insomma non vedo quale pericolo possa comportare per la salute di chi vai in campagna da solo vai in montagna fai una passeggiata è anche vero e mi metto nei panni del legislatore diventa difficile andare a disciplinare tutte le situazioni specifiche questo lo capisco però probabilmente alcune attività potevano essere consentite lo penso anche io vediamo se lo pensa anche la nostra amica Bibiana Chierchia che è collegata via Skype potevi mancare Bibiana alla presentazione del calendario mi sarebbe assolutamente dispiaciuto mancare ciao Erika scusa Antonio se saluto prima Erika e poi te conosci conosci la mia tendenza a mettere sempre il femminile al primo posto assolutamente mi sarebbe dispiaciuto tantissimo mancare e quando ti devo ancora chiedere scusa pubblicamente perché non ti avevo richiamato non riconoscendo il numero quando ho capito chi mi stava chiamando ho immaginato e sperato che si trattasse di questa occasione ho sperato che anche quest'anno non mancassi e Telemolise Telemolise Sport non mancassi all'appuntamento della presentazione del vostro calendario grazie ancora per l'invito e comincio a fare i complimenti a chi ha ideato e realizzato il calendario senti grazie grazie dei complimenti ma hai sentito che diceva l'avvocato Trotta dice ma se io vado a pescare o vado a fare una passeggiata trekking a Capracotta o a Campitello Matese perché sennò dicono che parliamo soltanto di Capracotta possiamo parlare anche di Pesco Pennataro o di caro Le Mainarde ma a chi faccio male a chi farebbe male è chiaro che è difficilissimo riuscire a definire il confine di quello che si può e quello che non si può fare in questa situazione che è sicuramente complessa delicatissima e che purtroppo rispetto ai comportamenti dell'estate dal mio punto di vista per una corresponsabilità tra le maglie larghe del governo e i comportamenti individuali e collettivi diciamo non non precisamente responsabili una situazione che si è sicuramente ottenere un mese complicata poi andando alla battuta dell'avvocato Trotta saluto Antelico siccome saluto Giuseppe saluto Giuseppe Formato saluto Daniela e saluto tutto tutto il tuo staff tutto lo staff lo staff della della redazione sportiva tornando appunto alla battuta probabilmente sicuramente a nessuno tra male sicuramente lo avete già ripetuto tante volte stasera comunque la pratica dello sport ha a che fare prima di tutto con testa e cuore e poi arriva agli atti inferiori e agli atti superiori quindi la pratica dello sport è sicuramente indispensabile a una buona qualità di vita ma la verità è che in questa situazione sicuramente è prioritario garantire la vita per chi la ha a rischio e poi sulla buona qualità bisogna bisogna lavorare e sicuramente lavorare a livello di decisori politici in modo più più lungibilante e responsabile senti Bibiano tu lo sai che insomma il bene che ti voglio e sai anche la stima che ho nei tuoi confronti però ti rendi anche conto io faccio una domanda a te ma la farei insomma francamente al nostro presidente del consiglio che lo dico soltanto perché lo hanno riportato i giornali nel mese di dicembre ha percepito 32 mila euro di tredicesima e 27 mila euro di stipendio così tanto per dire perché poi se uno dice ma sai quello è difficile ti pagano per fare il presidente del consiglio quindi non mi puoi venire poi a rinfacciare che è difficile farlo perché io faccio il giornalista e guadagno 400 euro all'anno e lui solo a dicembre ha guadagnato questi soldi però io ecco una domanda che faccio a te ma in maniera assolutamente benevola e di stima ma sei veramente sicura che tutti questi sacrifici abbiano effettivamente ridotto tu hai parlato di allargamento delle maglie e via dicendo ma fino a quando dovremo stare chiusi per voglio dire per tornare a scuola per tornare in palestra per tornare negli stadi per tornare a pesca per tornare a caccia per chi ama questi sport e via dicendo fino a quando perché ci avevano detto facciamo sacrifici a novembre per trascorrere un sereno natale lo stiamo vedendo come lo trascorriamo sereno più sereno di così c'è forse la morte c'è il cimitero perché più pace di così ci può essere soltanto la pace voglio dire delle aree cimiteriali no? ma è chiaro che è una domanda assolutamente di stima e di affetto nei tuoi confronti stiamo confrontando è chiaro allora capisco il tuo parlare per i perbole e sicuramente il provocare è un modo per scuotere le coscienze e sicuramente le coscienze da scuotere sono quelle dei decisori politici però oggettivamente Antonio quando il riferimento è quello del comitato tecnico scientifico come fai se sai che la tua decisione di governo ricade appunto sulla sopravvivenza o meno di una fetta anche di un solo cittadino come fai a non prendere decisioni anche estreme sicuramente è vero che hai fatto nell'elenco che tu hai fatto ora hai messo per prima la scuola e chiaramente per prima per me e credo per tutti i nostri telespettatori appunto come fai a decidere io parlo da docente che sta subendo insieme ai tuoi studenti che sta subendo nuovamente la DAD come fai a decidere di non di non tenere a casa migliaia di studenti e del personale del mondo della scuola se è dimostrato che il contagio avviene negli spostamenti verso la scuola lo decidi ovviamente investendo in modo consapevole e mirato sulla questione direttamente legata alla scuola che è quella dei trasporti come fai a riaprire le palestre e riaprire i canzionati lavorando sul contesto quello sicuramente sta mancando sicuramente il nostro Stato non era pronto a matto ma anche tanto sicuramente ci saremmo dovuti far trovare assolutamente più pronti non più in assoluto ma più pronti a settembre quindi sono d'accordo sulla tua provocazione mi rendo conto che le decisioni vengono prese non con numeri non solo con statistiche Antonio alla mano vengono prese con relazioni di scienziati che su questo si assumono responsabilità come fai a rischiare sulla vita di questo? Bibiana scusa sarebbe un discorso infinito io ti voglio fare gli auguri di Buon Natale ti voglio dire soltanto questo come fai a pensare di interrompere la serie di incidenti che ci sono tutti i giorni sulle autostrade e sulle strade italiane chiudiamo cioè voglio dire questo è il senso però non è non è non sei sicuro tu mi hai risposto tu mi hai risposto in maniera assolutamente intelligente e come sempre quindi non mi hai deluso nemmeno questa volta buon Natale grazie di esserci state insieme a noi e ti daremo volentieri il nostro calendario passerò volentieri a ritirarlo gli auguri di nuovo li faccio a te a Erika per tutti per il nostro editore e per tutta la redazione per chi ha lacrimente e compassione lavora perché la comunicazione e la comunicazione sportiva arrivi in questo modo nella nostra regione grazie Antonio grazie Erika buon Natale buon Natale Erika ci fermiamo ancora una piccolissima pausa pubblicità Allora sul nostro calendario 2021 non poteva mancare la Molisana Basket Campobasso saluto Rossella Ferro la ringrazio perché so che non è stato proprio un pomeriggio tranquillissimo comunque grazie Rossella per aver voluto portare il tuo contributo a questa trasmissione grazie a voi buonasera a tutti allora poteva mancare la Molisana non poteva mancare insomma ci mancherebbe altro una squadra che fa il campionato di A1 evidentemente merita tutte le attenzioni anche se è un momento un tantino no assolutamente assolutamente sì diciamo che paghiamo sicuramente tutte le problematiche che riguardano chiaramente una una società è una squadra che milita per il primo anno in un campionato di massima serie quindi quello che si chiama un po' il noviziato quindi a questo chiaramente si sono aggiunte altre problematiche che afferiscono evidentemente al periodo particolarmente difficile che noi tutti stiamo vivendo e quindi anche con noi come Magnolia sia per quanto riguarda chiaramente la pandemia quindi il virus che anche diciamo ha colpito anche alcune persone dello staff ed anche qualche giocatrice in più tantissimi infortuni probabilmente anche questi che riguardano il periodo lungo di inattività che le giocatrici hanno vissuto nel precedente campionato quindi da febbraio a fine agosto in sostanza per quanto abbiano seguito chiaramente dei programmi di allenamento di fatto non sono scese in campo non hanno vissuto competizioni quindi di conseguenza nel momento in cui chiaramente l'attività è ripresa si sono verificati tanti infortuni quindi a tutto questo insomma l'attività già ordinaria si sono aggiunte delle altre problematiche comunque la società è solida impara velocemente dagli errori sa che è un anno in cui bisogna avere molta pazienza e bisogna poi procedere partita per partita senza demoralizzarsi ovviamente è scontato che dopo una serie di sconfitte comunque si viva un momento un po' particolare però noi siamo sereni sapevamo di dover andare incontro a delle problematiche probabilmente ne sono venute un po' di più però siamo saldi e continuiamo su questa strada perché insomma siamo comunque orgogliosi di poter disputare nel nostro piccolo Monise un campionato di massima serie che coinvolge delle atlete professioniste importanti anche internazionali certamente sul calendario abbiamo messo molto indegnamente naturalmente per noi anche il premio che riterò tuo padre che ormai è diventato uno di noi quello che lo vediamo proprio nella pagina del calendario di quest'anno è diventato uno di noi perché noi pubblichiamo i suoi studi sul giornale del Molise e devo dire lo facciamo non per un atto di riverenza ma perché veramente ci forniscono un contributo un contributo importante io ti ringrazio Antonio ringrazio tutti voi per questa attenzione che dedicate a mio padre che devo dire è particolarmente contento e orgoglioso di tutto questo perché è una vita che lui dedica oltre che ovviamente al lavoro e alla famiglia allo studio è un grande storico adesso più che mai di questo sono contenta perché lo aiuta chiaramente a trascorrere il tempo si dedica alle letture e quindi poi a fare delle sintesi e a popolare il suo blog che ha creato un po' di anni fa e quindi io ti ringrazio per la condivisione che tu fai chiaramente sulla vostra piattaforma e di cui lui è particolarmente fiero e che condivide con tutti quanti gli amici va bene Rossella allora un augurio sicuramente allora un augurio dobbiamo veramente diciamo in questo periodo mantenerci veramente saldi solidi solidali e veramente ecco tenaci perché i tempi lo richiedono e ci auguriamo insomma che quanto prima effettivamente si possa tornare a tempi ordinari e siamo molto vicini chiaramente a tutti coloro i quali e penso un po' tutti veramente tutti siamo stati coinvolti dalle varie vicissitudini negative quindi siamo tutti tra noi solidali vicini grazie Rossella buon Natale grazie anche a voi a voi tutti complimenti buon Natale e in bocca al lupo in bocca al lupo allora salutiamo anche Rossella sempre gentile sempre cortese nei nostri confronti ci avviamo alla chiusura quindi velocemente Leonora si effettuiamo l'ultimo collegamento Skype che è un collegamento dovuto perché insomma abbiamo il nostro poeta ufficiale quindi evidentemente Telemolise ha il suo poeta ufficiale Leonora qualcosa in chiusura certo proseguiamo con i messaggi e volevo dire direttore che a chiusura del 2020 si è verificato un evento storico perché dopo due anni circa è arrivato il primo messaggio da casa mia sono riusciti a mandare un messaggio finalmente dopo due anni sono riusciti un abbraccio e buon Natale al direttore a tutta la redazione sportiva di Telemolise ovviamente proseguo chi ha firmato vorrei sapere i miei genitori ah quindi che si chiamano Michele e Angelo oh allora nominiamoli perché non ci sta niente di male e poi siete fortunati voi di Telemolise sono le 10 e potete stare fuori di casa è un privilegio ci abbiamo i permessi però ci abbiamo tutti i permessi soprattutto adesso che usciremo se non ci aspettano qui vabbè stanno qua fuori tutte le pattuglie coraggio con le palette poi grande Erika sempre un piacere vederti sul piccolo schermo e poi ancora no al grande fratello sì al calendario di Telemolise ma è ovvio questo sì che è un complimento ma Romeo ma condividi Giuseppe assolutamente sì va bene abbiamo il collegamento Skype con Babbo Natale eccolo qua il nostro poeta ufficiale Piero Cristofaro da Ripa Limosani che è durante che Piero mi raccomando allora dal 24 al 28 poi dal 31 al 3 e dal 5 al 6 non potrai venire a Campobasso e questo è caro direttore buonasera grazie per l'invito come sempre per me è un onore essere il cappellino dov'è il cappellino il cappellino allora ci hai preparato la solita pilastrocca o no sì sì innanzitutto complimenti per il calendario poi mi ha chattato una mia amica della Germania che vi sta seguendo si chiama Ivana ciao Ivana due cose non lo so se l'avete detto o meno ma l'arbitro tra virgolette questo arbitro Bragaccini nel 2 dicembre 2018 l'abbiamo Campobasso agnonese che finì 2 a 2 ci negò un rigore e ci annullò ben 3 gol l'abbiamo detto quindi perciò ve lo voglio ripetere ok è Natale e siamo tutti più buoni vai Piero vai andiamo avanti complimenti a Erika per i tuoi 26 anni portati a meraviglia 26 a Telemulise più quelli che mi riportavo vabbè allora dico dico due cose una su Diego Maradona perché voglio dire ci sta due righe il figlio che parla con la mamma ma gli voglio gli pello e perché voglio gli pello perché voglio diventare come Maradona e perché voglio diventare come Maradona perché Maradona le voglio dirgli quello bello bello questa è la prima condivido la poesia di così parlò Bella Vista così parlò Bella Vista un'altra poesia su Maradona se non c'è tu lo sai io ti voglio bene ma una finta Maradona scioglio sangue rinde bene bella vista va bene vai con la seconda allora questo invece per quanto riguarda attinenza appunto dal calendario ho stilato il mio calendario su questa pandemia purtroppo e fa così è gennaio scendere per la due virus a febbraio scende Nostradamus e Marz mascherine wand e alcol e nuove rebus ad aprile il pap recita l'angelus da solo e maggio tutti dai forchi nascut e giugno e giriamo in bred o rap tus e luglio se vai in vacanza chi bonus e agosto feste ball e tutto riesce ma tu virus non bo ess non esiste e settembre c'era vana scuola bus e ottobre c'era fa sotto un mad dangerous e novembre c'è parte l'ictus e dicembre c'è ma che men è gesù va bene va bene e raccomandiamoci funzionateci raccomandiamoci Piero va bene Piero buon Natale a te Mietta e a tutti gli amici grazie grazie buon Natale e soprattutto in questo periodo buona salute a te a famiglia a tutto lo staff di Domenica Sport e a tutti i telespettatori grazie a tutti grazie buon Natale salutiamo Pino Somma e Marco Somma nella nostra redazione di Termoli grazie per essere stati insieme a noi grazie grazie direttore rinnovo gli auguri di una serena natale e ovviamente un prospero 2021 che sia sicuramente meglio del 2020 che ci lasceremo presto alle spalle Marco grazie direttore per l'invito e per aver condiviso il programma con tutti noi buone festività a tutti e buon 2021 va bene chiudiamo il collegamento grazie anche Alessandro e Amedeo Nartella operatori nella nostra sede di Termoli allora grazie a Daniele Genovese e Leonora grazie per essere stati insieme a noi complimenti per la tua famiglia perché dopo due anni ci avevano un messaggio dalla famiglia daversa hanno avuto bisogno del loro tempo da vinciatuno hanno avuto bisogno di pensarci effettivamente grazie ad Angelo Pompei Donato Mignogna e Gianfrancesco Iacaruso grazie a voi Giuseppe Formato e Romeo Trotto un'ultima cosa che cosa vogliamo dire sicuramente gli auguri e poi i complimenti per la redazione sportiva di Tere Molise perché direttore tu e la tua squadra avete raccontato lo sport senza sport in questo 2020 è stata un'impresa sperando che nel 2021 possiate riprendere a raccontare lo sport quello vero speriamo mi associo ovviamente ai complimenti che faceva Giuseppe alla redazione a tutti li faccio a te ma da te fino all'ultimo degli operatori siete una squadra eccezionale veramente ormai consolidata e di grande successo faccio gli auguri di buon anno a tutti i telespettatori e faccio gli auguri di buon anno e buon Natale buone feste soprattutto a tutte le persone che soffrono che sono in ospedale agli operatori sociosanitari ai medici che in questo periodo stanno portando avanti un lavoro eccezionale dal punto di vista sportivo auguro a tutti di iniziare a praticare sport magari l'anno prossimo riusciremo ad andare a vedere in presenza il campionato in Serie C questa sarebbe una cosa bellissima e mi auguro infine che i nostri politici riescano con lungimiranza a garantire i tre diritti fondamentali libertà salute e lavoro questo sarebbe la cosa più bella un saluto a tutti grazie grazie a Erika Mastropietro ricordiamo che il calendario questo calendario sarà in distribuzione gratuita quindi lo regaliamo a tutti i nostri telespettatori subito dopo Natale perché insomma ci vuole il tempo per stamparlo questi sono soltanto dei prototipi subito dopo Natale nelle redazioni di Campobasso Termoli e Isernia grazie a te Erika grazie Antonio il mio augurio speciale va ai presidenti dirigenti tecnici e atleti delle società sportive che hanno dovuto privarsi di una bella fetta della propria quotidianità e ricordo domani sera alle 21 appuntamento con Molise Accaccio grazie a tutti per l'attenzione buone feste a tutti e buona vita e buon vaccino a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.